ciao potere pelato sono tornato buonasera a tutti e ho caldo fatemi mandare la storia che sono live su twitch con la live del sacchetto aspettate allora link live qui no twitch.it ciao rocket raccoon pelati e fumetti live qui yeah evviva ok eccomi sono tutto vostro tutto per voi solo per voi siete contenti siete emozionati da questa cosa spero di sì allora cosa facciamo oggi voglio assolutamente guardare il mio sacchetto dei manga due e poi abbiamo queste fantasticissimissime copertina dissing della live copertina dissing della live no e un pilato tutto pesato e poi no volevo guardare assolutamente vediamo se piglia la cosa giusta sì batman di accetta volevo guardare un attimino le uscite così gli distruggiamo la pubblicazione grande no e sarebbe bello l'anime bello l'anime ma il manga è meglio picpac non lavori torna a lavorare no 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 è bello l'anime ma il manga è meglio è sacchetto di jpop anche perché poi sennò si vanno contro bidino non mi sembra caso e tra l'altro grande news oggi di jpop non so se l'avete vista grande news di jpop oddio perché c'è una cosa con trump jojo non voglio saperlo l'hanno fatta con la ya come minimo ma no ma che cosa brutta ovviamente non potrei pubblicare la sommobbuta sommobbu che tristezza ciao jamming e tornando alle cose serie lo stand di trump sarà ospite di jpop alla ma già voi come c'è come c'è il yuki eto l'autore di guru guru grande top grande notizia infatti vedete scritto grande e l'ha detto anche michele mari ragazzi ma vogliamo parlare della redemption arc di michele mari noi abbiamo accusato per un sacco di tempo di essere un pochino troppo fedeli alle case editrici e invece ha fatto un video attacco a panini per la nuova edizione di come si chiama di detonation island perché sarebbe basata sulla prima edizione di codansha e non su quella nuova dell'altro editore che ha fatto quella più nuova più aggiornata michele mari redemption arc è iniziato mi aspetto a breve fulmini estrali contro star comics jpop toshokan goen no beh quella è un po' difficile non lo so ancora ciao michele si scherza ovviamente è ironia faccio simpatico umorismo simpatico umorismo andate tutti da michele a scrivergli pelati fumetti ti infama in live prima fa il carino e commenta i tuoi video poi vai live e ti diffama perché è uno stronzo maledetto pelato di merda mi raccomando fate così che è sempre divertente così mi becco un mega fiume di sto ovviamente scherzando semplicemente è risaputo che michele è amico di molti all'interno delle case editrici e lo dice anche nel suo video e quindi tra l'altro si stupisce perché panini non risponde panini non risponde spoiler panini non risponde perché perché come ben sappiamo panini è la più strana delle case editrici italiane da questo punto di vista e non mi stupirei se anche star comics piano piano prendesse lo stesso tipo di approccio perché lo sapete benissimo perché perché non sono più piccole aziende in Bari di cui c'è un per una persona che le gestisce ma c'è gente a cui a fine anno dire questi sono i risultati e che ti dicono non perdere tempo e non perdete tempo incazzate non ce ne frega niente del rapporto del pubblico il pubblico è solo cliente e non comunque detto questo potere pelato sono tornato da voi cuoriccioni a tutti che vita difficile comunque come state avete passato una buona giornata avete caldo io si e attendo con ansia anche l'arrivo di jpop no non è vero no non l'attendo neanche questo ce l'ho già no questo ce l'ha ma in realtà anche qui anche quintessence è un quintupletto al primo credo non ne sono tanto questa ah no è solo una pubblicità così a caso vabbè poi c'è ah vabbè il 14 luglio la presa della bastiglia o della pastiglia anche se hai dei problemi questo manga sarebbe da prendere non mi ispira molto non lo so eeeh cos'altro mi hanno detto che anche jpop farà tre settimane di ferie però tra settimane ci sta mi infastidisce ma ci può anche sta è il mese e mezzo di star che mi dà fastidio cioè cinque poi sono sei cinque non lo so boh ricontiamole una due tre quattro cinque sei tecnicamente no i soldi ce li aveva anche prima una due tre scusatemi è un mese e mezzo sono sei settimane perché finisce il 16 poi il 23 non esce niente una settimana al 30 non esce niente sono due settimane no in realtà no è più complicato che casino beh no non esce niente no beh dalla 16 sono cinque insomma è un casino che casino sono esattamente cinque weekend cinque settimane cinque settimane qui non esce nulla effettivamente due tre quattro e cinque sì ok va bene che caldo vediamo sta però abbastanza triste questa cosa degli editori che abbandonano totalmente agosto manco fosse il 1997 io posso dire che faccio fatica a capirla questa cosa oddio magari per il semplice fatto che il manga vende meno e quindi gli editori manga evitano di buttare soldi ad agosto nella distribuzione non lo so non ho idea cos'è questo tra l'altro la settimana prossima 24 luglio mistero misterione ormai che ha i soldi va bene sempre molto charlieri su questo canale devo dire che le live sono sempre meno interattive comunque allora vi faccio vedere i fumetti che tanto duminchiate che cosa ho comprato questa settimanza allora jpop pare abbia avuto dei problemi a causa della così mi è stato detto in fumetteria a causa del nubifragio di settimana scorsa hanno dei ritardi non lo so non so che dirvi effettivamente stanno a milano magari li si è allagato il magazzino non lo so non ho idea così mi ha detto la fumetteria e quindi cos'ho comprato oggi ho comprato il nuovo numero di kenshin bella la copertina sempre pregevole l'edizione molto molto curata estremamente figa intanto la mia decondizionata già è morta perfetto sempre tanto tanto figa l'edizione manca le tavole a colori e si vede che poi è arrivata però oggi non c'era considera che normalmente arriva il lunedì jpop pensa pavilion quando ha scritto quest'opera probabilmente anche tu saresti piaciuto molto a watsuki e soprattutto sono 9 euro non mi ricordo quanti sono in totale queste in realtà boh è un bel po' comunque non lo so 22 grazie philos vabbè dai ne mancano molti ne mancano soltanto 7 aspettate che vado a riaccendere l'aria condizionata io non ce la posso fare no guidero alchemico non l'ho letto embalming si e il malming effettivamente era molto fuori di testa e già che era sua embalming 14 mesi ma è di mestrale che due maroni non finirà mai che palle potrei non sopravvivere altri 14 mesi che due maroni quanto è che la stiamo leggendo sta roba da 30 mesi un attimo torno subito non sopravvivere un attimo nici non sopravvivere di Grazie a tutti. Grazie a tutti. Infatti ho acceso l'aria condizionata anche nella parte notte, così raffresco in generale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Odio la gente che, soprattutto, già sta sul cazzo postare le foto, invece di link. Poi alcune volte ha senso perché... è questa? Ha senso perché... boh... Eh ma è post-apocalittico il tombino. Ma che merda? Ma come cazzo fai? Ma come cazzo fai? Ma io dico... no, non... allora, ragazzi, ma probabilmente non fa nemmeno schifo vederla dal vivo. Ma come fai a postare sta foto? Ma sei rincoglionito! Ma io non lo so... Eh... Allora... 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 No, lo faccio più... lo faccio più... più educato. Lo faccio più educato. Seriamente, ma quello che ha deciso di pubblicare la seconda foto... Ricopre ancora lo stesso ruolo? O lo avete... Giustamente... Eh ma che gli piaccia il post ci sta! Ragazzi, ma qui non è il problema del manga. Perché magari poi, guardandolo... Non così, ma così... Magari viene giusto. Cioè, guardandolo così, magari... Ma tu non la pubblichi questa foto! Non mi viene il termine. L'avete giustamente ri... Non ho riciclato... Datemi un termine, giusto. Non mi viene. Retrocesso... Ma non volevo retrocesso. Volevo più riassegnato. Riassegnato. Riassegnato allo smaltimento. Rifiuti. Vi rendete conto di quanto è assurdo farsi cattiva pubblicità dalla vostra stessa pagina Instagram? Stessa pagina Instagram? Stessa pagina Instagram? Io... Virgola... Boh... Punto. Ma cosa c'è scritto? Insta? Insta. Ma perché? Questo è il problema, ragazzi. Non lo puoi fare. Sei completamente scemo a postare una roba del genere. Ma io non lo so. Beh, l'ho riassegnato. Mi piace. Dov'è? L'ho riassegnato. È proprio... È proprio folle. Pubblica un... Ma no, pubblico c'è, è ovvio che l'ho pubblico. Che cazzo me ne fotte? Ti pare che mi faccio problemi nel pubblicare commenti a... È veramente folle. Cioè, è veramente da pazzi. Cioè, io veramente... Ma io non riesco a capire come fa una persona che si occupa... Già che fai sta foto sul tombino, ma vabbè. Non lo so, vabbè. Per strada. Ma poi poi, fai questa roba per strada. Ma cosa cos'è? Il 1994. Vabbè. Ma a parte questo. Ma come ti viene? Cioè, lo vedi che è venuta di merda sta foto? Scegliene un'altra. C'è scritto, Manuel? No, ma sono deficienti. No, ma secondo me è un meme. Secondo me sei tu, sono malati. Cioè, è il formato più piccolo possibile, 13x18. Questo, sapete cosa ti fa capire? Che chi scrive Instagram non ha idea di quello di cui sta parlando. Cioè, 13x18 è la dimensione minima con cui fanno i Tankobon. Beh, certo, potevano farla nel formato quello piccolo. Ne hanno fatti due di manga, così. Forse tre. Tre, credo. Hanno fatto Cyber Nonno, avevano fatto la prima edizione di Yawara e qualcos'altro che non mi ricordo cos'era. Nell'edizione Bunkoban, che è la versione piccolina. Ma io, cioè... Boh. Ma volete prendere qualcuno che capisce di quello di cui sta parlando? Questo è... Non è... Evidentemente il social media manager, sempre che se ne occupi lui di scriverle e di selezionare le foto, ma magari no. Ma è... Allora, tu scrivi sta roba in formato 13x18 per gustare appieno e la gente ti manda a fanculo. Ma è inevitabile. Guardate, ho fatto queste... Ma sì, in realtà, oddio, siamo dalle stesse parti del... Che formato è il Batman in un'edizione pregiatissima in questo formato per collezionisti di Batman anno 1? 16 per... cioè, 21 per 18. No, come cazzo dai? 18 per 23? Non mi ricordo più le dimensioni dei fumetti comic book. 16 per... no. 16 per 21 è la canza. 17 per 23? Vabbè, 26. Comunque, 21 per 26. Vabbè, comunque, comic book. Cioè, io sono veramente... Io glielo scrivo, no? Che cazzo glielo scrivi? Tu glielo mandi e... Sapete cosa faccio? Adesso faccio una cosa. Che farà incazzare qualcuno. Ma io lo faccio. Lo faccio... Perché... Secondo me va fatto. E non lo faccio per cattiveria in questo caso, eh? Ora, io scrivo su Twitter e taggolo poi. Metto la foto su Twitter. Ma non perché voglia litigarci con Planet. Ma perché mi sembra veramente assurdo. Io mi chiedo a chi sono in mano nella loro comunicazione. E quindi lo faccio. Vaffanculo. Allora, foto. Come si mette una foto su Instagram? Su Twitter? Non lo so. Ho capito. Sì, voglio metterla a foto. Non ho l'autorizzazione per usare le foto su... Che due coglioni. Allora, impostazioni... Non c'è il passaggio diretto. Devo andare da impostazioni. Impostazioni... Dove cazzo è il permesso? Devo andare sull'app, immagino. Ma porca puttana. X, dove cazzo sei? In fondo, immagino. È X. X. Allora... Fotocamera? Sì, foto. Accesso. Limitato. Ok. Fine. Crada, se non ti sta bene ti banno. Vedi tu. Allora, torniamo su Twitter. Che palle. App di merda. Vediamo se adesso mi fa usare una foto. No? Che bello. Ma non voglio il microfono. Consenti anche il microfono. Ok. Ma non mi ha fatto affatto un video. Ma che merda. Ma perché ti fa così cagare Twitter? Io voglio una foto. Posso avere una foto? Ma porca di quella puttana. Io... Ma che app di merda. Allora, faccio una foto col telefono. L'Axit01, come ho già detto un miliardo di volte, dovete piantarla di rompermi i coglioni con il sito Panini. Il sito Panini non è affidabile finché le cose non escono ufficialmente. Il sito Panini dovete guardare le cose quando escono la settimana di uscita, appunto. Non c'è modo di sapere se una cosa che in questo momento è sul sito Panini per settimana prossima uscirà davvero settimana prossima. Non c'è alcun modo di saperla. Questo vuol dire il Batman di Ajet. Questo. La collana Batman di Ajet. Allora, abbiamo la foto. Aggiungi. Et lupoi. Senza polemiche. Non sarebbe forse il caso di farle selezionare meglio le foto? Secondo me si incazza e mi toglie il follow. Però voglio dire, non è offensivo, eh. che puoi anche scrivere che è in formato Tankobon per meglio apprezzare i disegni. Cioè, è questo il problema? Io, nel senso, in questi casi qua, secondo me non è neanche cattiva fede. Cioè, è proprio che non glielo... Ma li hai gli occhi? Ok, io glielo ho mandato. Al massimo si incazza. Ma non gliene frega un cazzo. Ma gliene frega sì, secondo me, Rocket Raccoon. E questo è il punto. Gliene frega sì. Cioè, è una cazzo di azienda. Non è un... Ma Rocket, ho capito che vendono uguale. Ma allora vaffanculo. Cioè, allora facciamo le cose di merda perché tanto le vendono uguale? È ridicola questa cosa. Perché no, non vendi uguale invece. Perché rischi di avere una parte del pubblico che dice Ah, ma minchia, se è stampato così di merda non lo compro. Perché tu non puoi selezionare un'immagine fatta così a culo e pubblicarla. Perché vuol dire che non capisci un cazzo di quello che stai facendo. È imbarazzante questa cosa a livello aziendale. Ma non sono faticose. Bastava che cazzo hai fatto le foto ti accorgi che questa fa cagare non la pubblichi. Tanto Ken l'hai già messo. Hai già messo questa? Non mettevi questa foto di merda? Mettevi questa, mettevi questa e mettevi questa. Ma andava benissimo. Cioè, capite che non è una roba di non siamo riusciti a fare No, è che l'hai fatto di merda. Cioè hai fatto quattro foto cinque foto di sta roba questa è venuta di merda perché magari, ribadisco non è detto che poi sfogliandolo si veda davvero così di merda. Io spero di no. No. Cioè ma dai ma poi qua non si qui non c'è nessun problema particolare adesso la linea è qua in teoria e non si nota particolarmente così tanto. Cioè madonna ma non pubblicarla ma svegliati e poi soprattutto non puoi far scrivere a una persona nel lancio scrivere in formato 13x18 per gustare appena lo splendore dei disegni. È lo è il formato standard. L'hai fatto in formato standard per apprezzare meglio lo splendore dei disegni ma sei serio? cioè è proprio comunicazione fatta da persone che sembra che parlino di cose che non sanno cosa sono e questa cosa è imbarazzante è seriamente imbarazzante vabbè quella delle strade non lo so magari si era per richiamare il post atomico fa un po' Mad Max però comunque basta questo discorso ma boh comunque tornando a noi all'allegro mondo di Kenshin abbiamo visto l'altro fantastico manga che ho comprato è questo è già spento il condizionatore funziona molto 10 minuti è durato e Mobile Suit Gundam Tangerbolt volume 21 e sempre figo cioè a parte questo Gundam questo coso orribile che è tipo il Neo Zeong finale che schifo questo appare anche in varie versioni animate in realtà questa versione qua e poi vabbè c'è c'è Gundam c'è anche l'Atlas c'è il Bonzo New Type molto bello a livello grafico però seriamente io trovo che la pochezza dei social panini è imbarazzante grazie Cancio per il follow potere pelato Gundam sta facendo la stessa fine di Star Wars grazie leggo un sacco per questa dichiarazione assolutamente sensata ma non uscirà mai ma leggo un sacco ma a cosa ti riferisci esattamente tu ti rendi conto che dal 79 ci saranno state tipo almeno almeno una quindicina se non di più di serie regolate di serie animate di Gundam ma penso di più non le ho mai contate e quindi il tuo ragionamento e tra l'altro in Giappone hanno avuto per anni almeno una se non due riviste di manga su Gundam ma l'hanno sempre fatto leggo un sacco non è che sta diventando Star Wars come Star Wars sono decenni che di Gundam si fa un sfruttamento ma perché? perché le serie animate di Gundam servono a vendere i modellini ma non mi sembra che stia facendo al massimo è sempre stata quella cosa ma da sempre che cazzo stai parlando? allora ma d'altro non le leggo un sacco perché ci stupiamo quindi passiamo al contenuto principale di questa serata che si concluderà a breve abbiamo Batman di Hachette ora che cosa dobbiamo fare con questo Batman di Hachette? tanto mi piace che schifo non riuscirò mai a infilarlo in modo decente in un file di testo che palle non ci riuscirò mai vero? temo proprio di no che palle perché la mia idea sarebbe fare un simpatico foglio di Excel però mi sa che non si riesce perché se io faccio ctrl V li metto oh rimette giusti grande top topissimo grande 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 solo che la dimensione fa schifo perché la dimensione è a caso? non lo so foglio stili formati spaziatura allinea formattazione cancella formattazione diretta perfetto non volevo fare questo ok perfetto non so come ho fatto ma adesso è a posto va bene allora quello che volevo fare è cercare di capire di tutte queste di questi 60 volumi di acet che potete vedere dovreste poter vedere li vedete sì e di tutti questi volumi di acet vorrei capire esattamente quanti sono disponibili già se c'è qualcosa di particolarmente interessante o se ovviamente fanno tutti cagare ora il ritorno del carriero oscuro sarebbe sì un nice strike back in italiano vero? sì poche edizioni credo quello è normale pick pack purtroppo sul discorso costine quando fanno queste collane loro non interessa che tu ne compri uno vogliono che tu fai la serie beh il disegno è figo però dai non è male è Federici non lo so no forse no lo dico per i colori e non per il tratto la costina è figa però dobbiamo ricordarci una cosa veramente queste sono particolarmente convenienti perché perché non sono quelle allegate ai giornali quelle sono spesso super convenienti queste qui invece è proprio una collana che esce così ora l'aveva fatta Goen e quella di Goen era molto comoda eh sì ma per loro conviene cioè anche perché tra l'altro non è detto che diventi così semplice poi avere i numeri singoli perché è quel genere di cosa che ovviamente se l'hai presa te la sei prenotata da ridicolante te la fa arrivare ma altrimenti è difficile che fa arrivare il numero singolo e a volte non gli è nemmeno così semplice farti arrivare il numero singolo ma magari sì però leggo un sacco ma perché lo chiedi a me esattamente posso chiederti il motivo per cui lo chiedi a me non lo so neanch'io perché tre Joker non ha senso in due volumi eh ma prima e dico la funzione squisquidi accetta per gli avretrati sì anche secondo me è un errore tre Joker perché non ha senso come fanno a fare due volumi cioè nel senso tre Joker è uscito in volume per Panini non mi ricordo però sono tipo tre numeri da 48 pagine poi sono anche tre numeri tra la sì è uscito in volume sono 160 pagine non lo possono fare in un volume singolo comunque già ce l'abbiamo scriviamo quanto costa mi segno quanto costa e quindi secondo me lì qui c'è davvero stato un errore è qualcos'altro uno dei due ma due da 80 non ha senso perché ma poi come li dividi due da 80 sono due sono tre numeri cioè sono tre numeri cosa fai un numero e mezzo ma poi perché dovrebbero farla da 80 pagine non ha proprio senso io temo che siano tutte robe assolutamente inutili tipo il Cavaliero Scuro Cavaliero Scuro ce l'abbiamo per Panini adesso ve li leggo io e non vi faccio vedere i titoli Cavaliero Scuro ce l'abbiamo per Panini a 24 sicuramente ci risparmi però questo è il cartonato e quello è il coso per cui effettivamente se no non se ne è mai letto il primo volume a quella cifra lì devo dire che ci sta no no ma infatti ha molto poco senso poi la corte dei gufi che è il secondo volume non c'è non esiste su Panini la corte dei gufi forse non esiste in volume eh ok ma non esiste in volume beh è già una notizia eh quindi la si trova sull'ombusy Snyder eh no no per forza perché è troppo vecchio e non aveva senso farlo questo non è un DC Black Label cioè un DC Black Label con l'action non è un library tra i gioker ma è deluxe tra l'altro no è formato standard e allora ma è disponibile quello di Snyder oddio no cioè è vero che c'è stato l'integrale che palle facciamo Snyder omnibus vediamo se viene fuori sì c'è ecco 89 euro però ha più senso eh devo dire che sinceramente se dovessi recuperarmi le storie e The Killing Joke The Killing Joke lo ci sia in 12 edizioni in questo momento minchia vabbè solo due disponibili in realtà puoi comparti quello a 990 piccolo o l'Absolute questo è l'Absolute sì a 45 immagino che lo faranno molto simile il volume è quella che ti pare Samuel magari non quella però c'è letteralmente in 5 edizioni diverse eh lungo Halloween non ho guardato adesso guardo anche lungo Halloween so che non vedete gli ordini ma non c'è modo allora comunque l'Absolute costa 45 euro o il pocket a 990 ok lungo Halloween invece non so come c'è adesso il lungo è appena uscito il compact vero? infatti quindi c'è o il DC library oppure la versione compact e poi c'è se ce lo mettono questo secondo me no però sì per 10 euro in più viene l'Absolute con due colorazioni però non è per collezionisti Peppo ricordatelo eh cioè beh lungo Halloween ora se uno lo vuole in formato normale non è male il volume 3 forse il 3 è ancora scontato non lo so sì sì lo so che nel pocket c'è anche lo speciale nel DC library non penso invece anche perché è uscito prima dello speciale per cui tra l'altro è ancora disponibile dal 2020 20 e 2 no 20 sì strano 35 euro costa vabbè è lungo Halloween strano che non ci sia una versione grande ma fra un po' esce anche l'Absolute esce anche l'Omnibus fra un po' però e però esce l'Omnibus fra un po' Lord Razen l'hanno annunciato l'Omnibus delle robe di ma non è che è già uscito no non è ancora uscito l'hanno solo annunciato mi pare eh infatti vabbè allora esce poi quando è un altro discorso che esca esce poi sapete il discorso compagnini è sempre quello la roba se l'annunciano bene o male in genere arriva quando arriva soprattutto nei casi di Omnibus insomma dipende un po' però questo qua secondo me arriva il pocket costa 11,90 ok poi abbiamo l'altro tra i Joker vabbè Batman il Cavaliere Batman il Cavaliere tra l'altro anche questo lo fanno in in un unico volume eh sono belli grossi alcuni eh chissà che cazzo c'è in ah no è Batman il Cavaliere che sono due numeri per un totale di 42 euro vabbè mica male sicuramente si risparmia anche per però belli grossi anche sti volumi eh sì sì sicuramente non erano grossissimi però aspetta sono da però costano 21 quindi no sono abbastanza ciccini eh sono 160 pagine l'uno se no costava 18 che ne so leggo un sacco quindi sono la bellezza di 21 euro più 21 ok Arkham Asylum non ho idea di che edizione ecco però Arkham Asylum è molto più sottile sì vorrei farci il video lo sto facendo apposta questa cosa se no non la facevo sì Arkham Asylum c'è disponibile in panini questa è la classica collezione che vale la pena se c'è l'Absolute che costa 30 solo l'Absolute c'è di Arkham non c'è nessun'altra edizione al momento sì no vediamo solo solo Arkham viene fuori qualcosa sì solo questo c'è c'è l'Absolute che costa 30 ok poi abbiamo Batman lo specchio nero che se non sbaglio l'hanno ripubblicato di recente ricordo male ok eh sì sempre Absolute e che costa 50 questo poi abbiamo Batman anno 1 anno 1 esiste no secondo me anno 1 è introvabile credo che con anno 1 effettivamente 5 edizioni non so nemmeno a segnarmene non le cerco nemmeno quelle di anno 1 la nascita del demone la nascita del demone ma solo la nascita non credo ci metteranno solo la nascita del demone oh sì ah ma c'è proprio un volume che si chiama così anche Mila ok sarà questo che contiene il figlio del demone la spalla del demone la nascita del demone ok saranno i pari pari questo immagino eh presumo ah mi sono dimenticato Batman e figlio vabbè DC Deluxe costerebbe 34 ok Batman e figlio sarà questo Damien Batman e figlio se immagino di sì con la miniserie del 2013 non me la ricordo sarà questa però di Morrison Noe Morrison la prima parte mi spieghi Noe Morrison la prima parte ah dici che è la prima parte della ah no questo è il figlio di Batman infatti sì c'è ragione pure te no 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 c'è ragione anche lui cioè è che Panini io scrivo Batman e figlio e mi ha trovato questo che la E non c'era tra l'altro vabbè no ma non è questa sì sì è la prima parte dell'omnibus no non è omnibus Morrison 1 lì va capito cosa ci mettono perché cioè tecnicamente allora Batman e figlio sono i primi quattro capitoli magari ci mettono anche i primi due no no sono i primi le prime quattro storie di Morrison però andrebbe capito cosa ci mettono non si può sapere finché non ce l'hai comunque devi ricoperti l'omnibus e chi può dirlo il ciclope cioè non stiamo lì a fare fante editoria di Morrison è esaurito il primo non mi ricordo o è il terzo che era esaurito non mi ricordo più no è il terzo è esaurito quindi il primo c'è ok che costa 69 ok va bene poi Batman e Dracula pioggia rossa non ho idea di che cosa sia non c'è Batman e Vampirella pioggia no Batman and Dracula Red Rain questo non ce l'ho no ce l'ho su Batman la leggenda ok perfetto c'è anche per no per Panini non esiste questo perché c'è anche un secondo crossover con Dracula grande ma l'ho anche letto probabilmente ma non me lo ricordo assolutamente sono tre in tutto magari più di uno eh non credo che sia 90 pagine cioè c'era anche Tempesta di Sangue e Nebbia Cremisi magari sono tutti e tre eh solo vecchie edizioni beh scrivo solo vecchie edizioni e ciao cosa è successo al Cavaliere Oscuro c'è anche per Panini direi mi pare di ricordare sì ma ci mettono davvero solo questo sono solo questo è piccolo sono 128 pagine vabbè 128 ci sta DC Deluxe e costa 18 poi abbiamo una morte in famiglia vabbè classicone e c'è il DC Deluxe anche di questo 31 euro poi abbiamo Terra di Nessuno volume 1 che ovviamente non sappiamo cosa contenga a livello di quantità di storie ovviamente vabbè il sito Panini muore il dubito sarà l'omnibus però vabbè sta nell'omnibus che è stata appena uscito è quello uscito questa settimana no? sì eh non era Terra di Nessuno era Terra 1 sono un coglione grazie me ne sono accorto da solo ho letto Terra 1 Terra di Nessuno ho unito le cose allora Terra 1 hanno fatto il volume unico Panini di Batman perché c'era anche diviso c'è sia il cofanetto che costa 55 che il volume 1 che costa 20 che però anche l'edizione Deluxe che costa 44 anche perché non è detto allora bisognerebbe vedere se ci sono anche Terra 2 ma tra l'altro c'è solo Terra 1 c'è solo il volume 1 eh cioè non c'è il volume 2 eh questa è già una cosa un po' negativa in realtà il fatto che non sono completi perché di Terra 1 c'è il volume 1 no Benny sono storie alternative di personaggi che non sono il Superman super classico il Batman classico la Wonder Woman classica e l'Anterna Verde classico credo basta Terra 1 sono storie ambientate in una terra diversa quindi simili alle originali ma diverse sì eh però ho capito il via ciclope però cosa ti devo dire eh è solo quello cioè tra l'altro in generale noto a parte che mi piace perché il volume 51 è Joker 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 cos'è Joker di Bermedio la cosa strana è che sono tutti in realtà consecutivi per cui mi viene il dubbio non è che c'è l'errore proprio che magari c'è la parte 2 di Terra 1 e tre Joker è sbagliato e quindi hanno fatto casino potrebbe essere per cui fanno Terra 1 in due volumi potrebbe essere chi lo sa vabbè comunque poi abbiamo Batman di Neil Adams che non penso sia tutto il Batman di Neil Adams sarà un best of perché cazzo tra i absolute in uno la vedo difficile adesso non c'è più esaurito no 3 2 e 1 chissà perché non l'ho trovato ah perché non è D è D ora ogni volume sono 240 pagine mi sembra strano che sia tutto sarà un best of saranno solo le storie può essere che abbiano preso le storie e tolto tutte le robe extra perché ci sono un sacco di extra in questi volumi può essere comunque e non credo sia banalmente la prima parte non lo so che ragazzi non si può sapere no sono 3 DC Deluxe contemporanea 35 poi costavano 35 35 45 bella 70 più 115 giusto sì non è 3 DC Deluxe è 3 Absolute sarebbero 115 euro completa però probabilmente bisogna capire cosa ci mettono dentro poi c'è Dark Knight Strike Again abbiamo arrivato anche l'Impero però e di questo c'è il in realtà c'è anche l'Absolute con i due in teoria è uscito no grazie Emanuel se qualcuno me l'avesse detto prima sarei stato più contento però se vuoi essere ancora più utile mandami il link su Telegram tipo che due maroni anche perché ora devo andare a cercare il dove cazzo hanno messo il piano e non è mai così semplice dove cazzo è che due maroni e ho capito dove cazzo è piano dell'opera ragazzi devo trovarlo cioè sono i soliti siti incasinatissimi ah eccolo eccolo non è così semplice allora vediamo tre joker ah ok quindi non c'è questo tre joker quindi basta che in teoria faccio così seleziono tutte e trascino su no per terra uno hanno uno è così allora che due maroni lo specchio nero è il nove cos'è che cazzo arkham asilum è l'otto il set è il cavaliere killing joke ah no ok il terzo è bat no no che cazzo il quinto è killing joke il sesto è io sono gotham ah ok io sono gotham c'è in più che è il sesto che casino scusate che sto mettendo a posto quindi il sesto è io sono gotham ok questo c'è mi sa in collection vero era uscito mi pare quello di no non esiste e vabbè sti cazzi sì è king mi pare l'omnibus di king deve uscire ma non è ancora uscito no era uscito ma non c'è cosa ti devo dire se non esce può essere che sia esaurito banalmente eh o non si chiama così come al solito ah giusto io che sottovaldo il sito panini non l'hanno messo il titolo per cui il titolo l'hanno messo nel sottotitolo e giustamente il sito panini non fa la ricerca sul sottotitolo grande sito panini grazie Oxeno 22 grazie grande sito panini sempre il migliore miglior sito d'italia mamma mia io non lo so eh cos'è il collection desiderio di DC collection ok vabbè ora cosa facciamo lo facciamo tutta la controlla controlliamo che siamo tutte uguali terra 1 comunque c'è solo il volume 1 e joker è joker effettivamente ma dite che ci sono altre modifiche perché è un po' una rottura di maroni controllarli tutti oh ci fidiamo cosa devo dire ma questa cosa dai tascia rip cioè non vedo altre cose strane c'è razza suprema c'è rinato c'è cuore di ascio eh vabbè ragazzi se è settimanale ci vuole un po' dubbi settimanale quindicinale quindicinale anzi quattordicinale bella sfufu eh cavaliere oscuro colpisce ancora eravamo rimasti c'è più l'ho perso ma eccolo qua 27 euro poi abbiamo batman il detective batman il detective sono quelle immagino sia il primo ah no è questo mi sa sarà questo qua di cubert e tom taylor immagino presumo cosa 19 poi abbiamo strane apparizioni che non c'è in teoria c'è su DC Evergreen quindi ipotizziamo purtroppo non è una raccolta completa infatti secondo me certe cose non dovrebbero metterle io trovo assurdo mettere i pezzi di serie regolari cioè se vuoi fare una serie di questo tipo e farla bene o fai i cicli completi però diventa una roba fiume oppure fai la persona furba e metti soltanto le cose autoconclusive ce ne sono talmente la maggior parte sono cose autoconclusive non era dopo la guerra degli scherzi degli enigmi scusa ma era King poi si ma era dopo credo no mi ricordo sembra di must have però la maggior parte sono cose comunque leggibili ma dov'è però non è in ordine scusate è qua tanto non ci sarà se la cerco la volevo sul sito panini non su google e figurati se panini che due maroni ah batman 4 google è la soluzione bisogna cercare anche su panini le cose bisogna cercare su google sono gli episodi dal 25 e 32 facciamo batman il matrimonio schemi segno che costa 24 euro 24 di second e batman il matrimonio invece è il 7 perché non li hanno messi in ordine misteri eh sì mi ricordo però questa è una roba un po' più centrata su batman e è facile fare una roba su batman molto senza andare a cercare le serie regolari e ci fate caso la maggior parte cioè guardate la maggior parte delle robe sono non serie regolari nel senso regolare c'è questa c'è questa lo specchio nero però è una roba molto vecchia un po' un concetto un po' diverso c'è questa qua di Morrison c'è questa qua il matrimonio cioè la maggior parte sono le robe che puoi leggere tranquillamente perché sono dei cicli completi o di racconti o di classici o miniserie o comunque per cui no Terra 1 non è regolare resta il fatto che se c'è solo il primo pezzo erano tre numeri Terra 1 è una miniserie di tre graphic novel in teoria oddio magari la prima puoi leggerla da sola però valeva la pena metterlo tutto su tre esiste il deluxe che è completo però non è una serie regolare cioè non sono lunghi cicli è quello il problema cioè Morrison sono tre omnibus per cui magari non ha tutto sto senso proporre un pezzetto comunque questo qua in teoria è il Batman dove cazzo è? me lo sono perso questo non è disponibile tra l'altro il matrimonio sti cazzi non disponibili no non l'ho letto Claudia ah intiverebbero essere queste si parrebbe mi dicono c'è pure hanno zero e morte della famiglia raga io ribadisco ciclope io ti voglio un sacco bene lo sai però dovresti piantarla di fare coaching al canale nel senso se c'è hanno zero lo vediamo li stiamo guardando tutti non serve che vai a guardarti la lista per dirci no c'è anche questo lo vediamo insieme stiamo facendocela tutta non mi fate backseating è una roba terribilmente irritante quando ti fanno blackseating durante le live quanto costa sta roba 42 minchia vabbè Batman Natale voi dite che ci mettono solo Batman Noël è piccolo Batman Noël questa 18 euro sono sono 112 pagine cioè c'è ma fatemi guardare la foto scusatemi vabbè la foto probabilmente non è vera però si sembrano no mi sa che è proprio a casa non so se è reale questa cosa perché non sembrano più piccoli tipo questo qua è il 21 Batman Noël cioè dovrebbe essere questo o ci mettono dentro anche altra roba e ci starebbe magari ci mettono altre cose sempre di bermeggio eh sì magari sì boh vabbè c'è vittoria oscura che al momento è esaurito costerebbe 35 ma è esaurito gotham by gaslight anche dovrebbe essere credo ci sia per panini io l'avevo comprata l'avevo recuperata nella versione di rv lion credo che costava meno disi deluxe 26 euro sicuramente se uno queste storie non ce le ha risparmia di brutto eh perché comunque sono tutti volumoni alla fine ash c'è in tutte le salse credo cuore di ash però secondo me non c'è c'è sia la DC library o absolute sono 33 o 55 ok poi abbiamo la città dei gufi che è sempre Snyder credo quindi sta sempre nell'omnibus ma a cuore di ash ammetto che non mi ricordo qual era ma era tipo un'altra se un'altra mi cioè a cuore di ash era una serie era quella del batman di poldini cioè una parte della saga del batman di poldini vediamo se c'è in altre edizioni sta nell'omnibus di batman di poldini in effetti di cpop 1 di revulaio dov'è la cuore di ash aspetta che me lo segno già che ci siamo però il discorso è ovvio boh non lo so quanto costa il batman di poldini troppa roba c'è di poldini speravo spuntasse eccolo qua 89 poi abbiamo ancora batman rip rip era era morrison rip mi sembra era era guyman ah era lo speciale quello era guyman sicuro no è morrison non è guyman che dite guyman ha fatto cos'è successo al cavaliere oscuro che poi è quello di prima non c'era prima sì cosa è successo al cavaliere oscuro era morrison era guyman ma rip era proprio l'arco narrativo dal 676 al 681 in cui moriva vabbè comunque sta ancora sui gli omnibus di morrison poi abbiamo vabbè città dei guffi che abbiamo già visto gotham central immagino non sia completo perché ci sarà un pezzo di immagino e anche lì ma perché ci metti gotham central bella quanto vuoi brewbacker fico però c'è o la metti tutta o che senso ha boh vabbè tra l'altro 85 euro non disponibile ma dai si è esaurito gotham central ma che merda vabbè è del 2000 in effetti poi c'è batman metal e vabbè è metal metal come c'è disponibile al momento metal metal perché c'è solo il volume perché l'omnibus mi sa che è esaurito c'è l'omnibus di death metal c'è il volume di death metal ah no questo è death metal metal è più indietro forse che palle quanta roba hanno fatto di death metal che palle dark dark night's metal davvero l'avranno chiamato dark night's metal però anche batman metal che indecisione panini perché questo è l'omnibus ma l'omnibus è esaurito cioè non c'è proprio che merda e beh sì immagino che sono due robe che prima o poi devono ristampare però comunque c'è disponibile solo la mini e gli extra no vabbè 24 ciao rio tad ma si potrebbe fare il pocket di metal vabbè prima o poi arriveranno lo sapete che questi qui li ristampano chissà dove per cui poi abbiamo anno 2 che l'hanno appena ristampato in batman gli ultimi giorni no i primi giorni i primi anni perdono con hanno 1 e hanno 3 cavaliere bianco vabbè c'è il volume questo costa 27 standard non mi scrive vabbè cartonato normale nightfall non lo so come c'è non mi ricordo e sono 2 numeri qua però immagino corrispar hanno fatto proprio gli omnibus di nightfall il primo esaurito minchia sono 3 omnibus di nightfall quando è fiato il primo nel 2021 comunque non credo che copriranno forse cioè se gli va molto bene coprono il primo ma non credo secondo me il primo sono 900 dubito che siano 450 sai di più 480 pagine di volumi per cui però sono entrambi sul primo omnibus esaurito presumo poi bisogna vedere cosa ci mettono dentro la spalla di azar che merda e lo so anch'io però cosa ci mettono via ciclopia quali sono le storie importanti di nightfall non esistono le storie importanti di nightfall cosa ci mettono il batman che viene spezzato per due numeri non credo l'inizio e la fine può essere boh magari fanno un sunto però non abbiamo modo di saperlo la spalla di azar è il cos'era il volume con la mini no immagino sia questo presumo quello di chesada ma figo però 120 pagine magari c'è altra roba tipo le origini magari ci mettono dentro la parte in cui appare azar può essere però il volume tecnicamente è un desiderux è 18 ok poi abbiamo superman batman nemici pubblici questo potevo metterci link dei vari fumetti in effetti già che c'ero se non ero scemo facevo così facevo tac tac e ce l'avevo superman batman nemici pubblici non mi ricordo no non li abbiamo era quello classico ok questo qua che è questo qua per panini in teoria ok e ok così non devo neanche stare a scrivermi quanto costa c'ho il link quanto sono intelligente minchia sono veramente un genio vabbè scriviamo 19 e gothic non mi ricordo gothic è coso gothic è cioè le storie di questo no non batman beyond direi che palle come odio panini voi non avete idea ma si può che usi google funziona meglio è gothic è questo tecnicamente sono le storie di morrison e jensen the dark knight dal 6 al 10 poi abbiamo anno 100 vabbè anno 100 è sempre non è anno 100 in italiano perché in inglese year 100 year 100 mi piaceva in inglese quelli di asset nemici pubblici e l'hub sì sì lo so ci sono arrivato mezz'ora fa hanno 100 regoli polpop questo è un gran bel volume certo 27 euro non è poco però razza suprema panini ha fatto il dc library giusto sento che non esce no esce invece gli avevano annunciato anche l'absolute se non sbaglio quanto costa 35 poi abbiamo batman e ro batman rinato batman e robin batman rinato sarebbe morrison quando torna in vita sì e quindi sta sugli omnibus di morrison che sugli che su che omnibus è dov'è sul terzo o sul secondo due sul secondo a l'asso l'asso non credo che sia, non lo so se è tutto poi c'è quello di Ash che è quello di Poldini mi sto prendendo gli indirizzi a me non me li piglio ok, poi abbiamo l'ultimo cavallero sulla terra che è uscito incartonato, direi carino questo Snyder e Capullo è uscito anche in realtà nel coso nell'integrale sull'ultimo integrale se non sbaglio Broken City non mi ricordo assolutamente cosa sia Batman Broken City Città Spezzata ah è Città Spezzata perché la mettono in inglese? Madonna cioè se in italiano il volume Panini si chiama Città Spezzata perché me lo metti in inglese? che sono i numeri di Batman 620-625 ok comunque io arrivo a discutere i miei dubbi che facciano tutto Mordison morte della famiglia che invece è Snyder e che però ovviamente non c'è in è Snyder morte della famiglia no aspetta morte della famiglia si è Snyder ciao Vito stiamo guardando la nuova raccolta di Batman della chat non lo so se è il tipo di raccolta che posso che si tecnicamente è possibile però non lo so a chat non mi sembra il tipo di casa che le prolunga però può essere non ho idea non ho esperienze con raccolta di acetta tutto può essere tutto può essere però la morte della famiglia fatemi fare sta cosa ok sta sul no ah già è vero perché comunque Panini l'ha pubblicati sui best seller tecnicamente queste storie qua di Snyder non c'è il volume ma c'è il best seller però ho capito in famiglia lo so anch'io ma questa è morte della famiglia comunque il quinto sarà sul primo omnibus immagino e comunque Vito se ci sei ancora vedi anche anche l'omnibus di Batman di Snyder e Capullo sono due perché sennò dovevano fare tipo 2200 pagine diventava difficile poi abbiamo la guarda di scherzi degli enigmi che non mi ricordo già più chi aveva Tom King che c'è dal DC Collection vediamo se lo ritrovo no perché c'è il numero maledetta Panini amichevole Panini che io amo come più della mia stessa vita viva Panini poi abbiamo Death Metal invece grande Death Metal questo dovremmo averlo così che c'è sia l'omnibus che la versione ora immagino sarà solo la miniserie quindi sarà fondamentalmente questo qua che costa 29 poi ancora dopo poter mettere abbiamo Batman la setta che è una roba vecchia che non mi ricordo però mi sa che Papullini l'ha ripubblicato di recente infatti ed è questo qua di Starlin con Bernie Wrightson interessante e costa 28 oh alla fine sono soldi risparmiati se uno non ce li ha e vuole farsi l'unico problema ribadisco sono quelle lì delle serie singole Amore Folle boh lo faranno integrale perché Amore Folle questo volume qua di Panini è questo no che è quello proposto in tre volte tipo ce l'ho anche credo però hai la stessa roba tre volte se è quello che mi ricordo io mi sembra strano lo facciano così tra l'altro non è disponibile poi Batman Ego molto figo Batman Ego che Panini aveva rifatto esattamente così Batman Ego e altre storie bello di Team Sail da Rain Cook molto molto bellino questo non so se sarà esattamente uguale questo erano 232 pagine ci sta 29 euro per la Deluxe Batman e Robin Batman contro Robin è sempre Morrison o è quello dopo ma che cazzo ne so Batman contro Batman vs Robin si è il sesto di Morrison è il sesto di Morrison che stava nell'Omnibus 2 sempre si però è Morrison effettivamente c'è un bel po non so se è tutto bisognerebbe capirlo non c'ho voglia adesso però effettivamente sta poi abbiamo Batman Cavaliere Maledetto Buonasera Walt Maledetti turisti vengono qua a rubarci il lavoro no non è vero in effetti abbiamo Batman Cavaliere Maledetto di Team Sailor Jeff Love che sono le prime storie che hanno fatto insieme sono tre mini carino anche questo poi abbiamo Joker è Bo e sì tra l'altro eh ma Planeta su questa sarà intelligente loro avevano messo la città potevano aggiungere pezzi tanto che se ne frega Joker è Joker Joker potrebbe essere qualsiasi cosa potrebbe essere Joker di Bermeggio come qualsiasi altra per cui no no faccio il video non taglio sta merda eh sarà quello di Azzarello può essere però boh cioè può essere letteralmente qualsiasi cosa cioè Joker cioè potrebbe essere quello di Azzarello però chi lo sa io ce l'ho firmata da Bermeggio poi abbiamo Batman Universo era abbastanza una cacchina invece madonna ma come vi viene seriamente boh questo non ce l'avrei messo ecco sì sì ma è abbastanza comunque una cacchina ce l'ho anche questo la notte del cavaliero oscuro qual era la notte del cavaliero oscuro ah ok sì ma no ma che merda ma come fanno è quadrato questo vuol dire che cioè tagliano cioè lo fanno rimpicciolito boh mistero della vita è questo cioè nel senso dovranno fargli le bande nere sopra non è il massimo ma Batman Venom è sempre The Call of the Dark Knight magari non c'è soltanto Venom non ho idea però è questo in teoria no ovvio che non cambiano il formato però della Starcam non ho idea di cosa sia non mi dice niente della Starcam del 92 ah vabbè sono i primi numeri di Batman Shadow of the Bat ok grazie Peppo che se non sbaglio l'hanno appena pubblicato eh no infatti è uscito sarà più o meno questo volume qua immagino forse con qualche storia in meno va bene poi abbiamo sotto il cappuccio rosso che non mi ricordo assolutamente cosa sia abbiamo lo stesso titolo in panini direi di no vediamo se lo troviamo sull'Amazon cioè sul Google ah no è Batman Redwood sotto il cappuccio più o meno quante pagine sono questo sarebbero 544 pagine diviso in 2 ok costerebbe 49 e loro te lo fanno a 28 ma mica male e poi ci sono i due due Batman hanno 0 che ovviamente in panini non ci sono ed è sempre il secondo omnibus di Snyder credo potemi controllare per sicurezza allora anno 0 città segreta Batman volume 221 no è sempre sul primo ok vabbè Snyder e poi per ultimo il tempo e Batman il tempo e Batman non mi dice nulla il tempo e Batman il tempo e l'uomo pistrello sarà questo ah è Morrison ah si forse si eh il tempo non mi dice il tempo e Batman immagino si è sto qua che quindi sono è che così non si capisce una mazza aspettate vediamo se c'è come xbox sarà questa immagino con Batman 700 che stava comunque sull'omnibus 2 di Bobbison che è il ritorno di Batman tecnicamente vero eh no c'è parecchio di Morrison mi sa che c'è tutta la prima parte poi non c'è Batman internet Batman Inc poi non so se sono tutte tutte le storie vabbè comunque dai abbiamo un po' di roba cercherò in questi giorni di farci un bigliettino così il problema vabbè facendo tirando i sole le somme è carina è interessante il problema resta non è completa dal punto di vista delle varie saghe che presenta quella di Morrison si già quella di Snyder non è tutta sebbene probabilmente sono abbastanza bisognerebbe fare una vabbè magari cercherò di fare un attimino capire magari la prolungano ok per ora così è 60 magari la prolungano dobbiamo essere vivi oltre il 24 11 2026 non ne sono così certo potrebbe essere già scoppiata la terza guerra mondiale se poi i volumi li hai già costretto a comprare due volte quello per forza però effettivamente se uno allora è la classica serie che se uno non è non ha Batman magari hai appena iniziato a leggere Batman e vuoi recuperare qualcosa cioè vuoi recuperarti senza spendere troppi soldi perché alla fine sono 14 euro ogni due settimane tanto materiale interessante non è male hai le grandi storie di Batman ci sta no quello ci sta Peppo però tieni conto che non è così semplice recuperarle a volte però si ci sta però aveva anche detto che a quel punto secondo me in certi casi forse vale la pena comparsi il volume normale poi dipende però nel senso voglio Morrison mi investo i soldi e mi compro gli Omnibus piuttosto così ho la serie completa non lo so va un po' a gusto ti dico io Batman ho fatto più o meno così per quanto quella di Planeta fosse un po' più generale cioè Planeta era molto più figa perché in realtà io ho una formazione di Batman di grandissime saghe nel senso che non era così specifica con gli speciali anche perché comunque è uscita vent'anni fa ormai quasi no venti no ma no non è vero sì beh una quindicina di anni fa sì però e c'era meno roba attuale e quindi soprattutto nei primi numeri c'erano tante storie degli anni post crisis e c'era la maggior parte delle storie importanti di Batman post crisis proprio le saghe intere dello spillato e quindi era figo però non è male io non mi dispiace come serie pensavo peggio sinceramente anche perché non mi sembra che i costi siano poi così malvagi perché comunque 14 euro oggi in volumi così non è male però solo per persone che non hanno quelle storie già cioè che non hanno tante robe hanno voglia di comparsela tutta sì verso la fine sì infatti ho smesso di farla Peppo però i primi numeri cioè fino al numero io ce l'ho fino al 70 qualcosa ma sembra sono cartonati sì c'è la foto beh ecco mi si comunica allora grazie per il ride ti conviene farla tutta dipende ti conviene farla tutta se hai voglia di recuperarti tante storie di Batman e ne hai davvero voglia perché comunque insomma è un bel impatto economico nel senso che comunque alla fine sono 60 chi è che mi ha scritto fastware non voglio fare fastware mobile calcolatrice no non contro ma che cazzo allora sono 60 poi 58 no forse meno allora faccio 57 cos'è 13,90 il costo sì sono 13,90 per 68 no 99 non 90 99 per 58 più 6,99 più 1,99 sono 820 euro e 4 centesimi non è malvagio comunque perché voglio dire cioè e ritorno al cavallero scuro a 14 a 1,99 vale sicuramente la pena pigliarselo se non ce l'avete la corte dei guffi a 6,99 meno ecco non perché sia brutto che strana copertina è la visione sua lungo Halloween figo tutto in a 13,99 lungo Halloween meglio della versione compact a 11,90 questo qua in formato normale cartonato però fai conto che sì ok sono 820 euro che però paghi da oggi fino al 24 novembre del 2026 cioè non è che li paghi tutti sull'unghia cioè sono due anni e mezzo quasi per cui non così terribile in realtà non lo so c'è un po' da capire cosa vuole una persona tutto qua se vi interessa ci sta se non vi interessa un po' meno ecco però è intero comunque non è male ecco la maggior parte delle cose poi magari faccio un po' di conti per capire quanti volumi sono effettivamente improrogabili e soprattutto vorrei capire le robe tipo Snyder e Morrison si saltano dei pezzi comunque non sono complete almeno per ora a meno che non l'allunghino boh ci sta e non ci sta però vediamo che poi anche lì bisogna capire cosa ci mettono perché non abbiamo i numeri di pagina e questa cosa se in alcuni casi come non lo so tre Joker quella è lungo Halloween quello è Killing Joke quello è anche se probabilmente secondo me anche in questo ci mettono l'altra di l'uomo che ha smesso di ridere perché sennò che cazzo ci mettono Batman il Cavaliere sai com'è Arkham lo sai altre appunto come Batman e figlio non sai quante storie sono e quindi è un po' più io ribadisco se fossi stato il loro avrei evitato queste tutte quelle di Morrison e di Snyder e di King e avrei messo soltanto cose autoconclusive avrebbe avuto più senso però ciao Rodney comunque direi che siamo arrivati alla fine di questa bella liveotta e quindi vi mando da qualcun altro da Nakab che ci ha appena fatto il ride ma lo vedo ancora live sul mio pc magari ha fatto il ride e poi ha cominciato una nuova live può essere questo può essere posso mandarvi dai termos nella pre-live dei termos per 15 minuti forse no c'è nessuno stasera non so chi mandarvi rimando da Holorin che guarda gli annunci di luglio dai rimando da Holorin se c'è c'è si c'è vedete tra l'altro Asfufu è già lì Asfufu merda è già lì che scrive da lui non cagando noi perché evidentemente Asfufu preferisce Holorin a me segniamocelo Asfufu infame per te solo le lame Asfufu traditore per te solo sudore questa l'ho inventata così va bene ci vediamo alla prossima live domani domani non lo so cosa facciamo ma non credo che uscirò di casa alla ricerca di un sacchetto perché non c'ho voglia potere pilato ciao anzi aspetta ciao ciao a ciao a Grazie a tutti